È vivo? Sì, è vivo. E so dov'è. Hai intenzione di andare fino in fondo? Abbiamo vissuto cose che lei non può immaginare. Siete uomini senza onore! Lomax. Non immaginavo che tu fossi ancora vivo. Che accadde là dentro? Il premio Oscar Nicole Kidman. Il premio Oscar Colin Firth. Io lo amo e non voglio perderlo. Gli resterà accanto qualunque cosa farà. Ci riuscirò. Le due vie del destino. The Railwaymen. Al cinema.